CNA Cinema e Audiovisivo Marche presenta Fuori tutti, artisti delle Marche in rete per resistere. Uno spazio di incontro delle arti aperto a tutti. Registi, attori, scrittori, musicisti, cantanti, creativi. Un palcoscenico virtuale nel quale potranno esibirsi artisti del mondo del cinema, teatro, spettacolo, letteratura e cultura delle Marche e non solo. Un modo per continuare ad esistere, per resistere in questo momento difficile. Noi rimaniamo in casa, ma Fuori tutti ci spingerà oltre ogni confine. Invia i tuoi filmati a cmacinemamarche.com Fuori tutti, artisti delle Marche in rete per resistere.